Ciao a tutti, siamo al Bar Caffè Oveggenza per spiegarvi le procedure per una lettura dei fondi di caffè espresso. Allora, partiamo. Prima chiaramente si beve il caffè, poi il piattino, mano a sinistra, tazzina, mano a destra. Il piattino sulla tazzina, passa tutta la mano a sinistra, si rovescia e si ruota sette volte in senso orario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si poggia la tazzina, si aspetta qualche minuto in modo che il caffè possa adagiarsi sul piattino e poi si passa alla prevista lettura. Seguimi nei video e vi spiegherò i significati. Ciao!